Carissimi amici, carissimi amiche, benvenuti sul canale, buona settimana a tutti, continuiamo dai nostri ragionamenti anche sul caso di Liliana Resinovic, credo che forse nel pomeriggio in serato o al massimo domani mattina farò anche un altro video perché mi ha appena aggiunto una intervista a Salvo, il vicino di casa di Liliana, quindi poi come a me piace commentare un po' ciò che si dice e quindi lo commenteremo insieme, quindi vi do anche appuntamento per il prossimo video. Oggi però voglio fare un'altra considerazione di carattere generale e comunque sempre ringraziandovi che siete così numerosi a seguirmi, oggi voglio fare un saluto particolare a degli amici che mi seguono da Veruna, in particolare a Vanessa che mi segue insieme al marito, quindi tanti saluti anche al marito che mi seguono con tanta assiduità e mi hanno fatto insomma tanti complimenti per cui li ringrazio per questo. detto ciò purtroppo bisogna inevitabilmente ripetersi in questa vicenda perché si assiste diciamo a una sorta di isteria collettiva, una sorta di delirio investigativo da parte di privati, di privati chiamiamola così, per cui si suona questa gran cassa del gossip per creare sottettiziamente una realtà, una realtà che è una realtà virtuale che somiglia per certi aspetti a una realtà virtuale come quella dei videogiochi in cui si creano delle situazioni astrettamente reali e poi si fanno le guerre, ecco come le guerre stellari che devono essere vinte e si vincono contro un nemico immaginario e questa è la mia sensazione perché il ruolo della gran cassa mediatica è fondamentale altrimenti qualsiasi voce rimarrebbe circoscritta a una chiacchiera da base come avviene di solito, mentre questa gran cassa mediatica quindi delle varie trasmissioni anche delle riviste, dei giornali permette che qualsiasi cosa, ecco ma dico in generale qualsiasi cosa ripetuta costantemente e amplificata entri nelle, non solo nelle case ma entri nella mente, entri nei cellulari di chiunque e quindi contribuisca a formare una realtà astratta. in questo caso ciò sta avvenendo man mano con la ripetizione si sta formando una realtà di tipo astratto anche perché la gente non è che ha tanto tempo diciamo per farsi domande o approfondimenti su tutto, sapete oggi si va di fretta per tanti motivi per cui ci si contenta di quello che si dice, di quello che si ascolta, dei trafiletti che si leggono. Oggi siamo nel tempo di Alexia, conoscete? Per cui basta chiedere, ecco basta chiedere e ti viene data una risposta confezionata, quindi non c'è più bisogno di approfondire le notizie senza avere il filtro diciamo della ragionevolezza, il filtro della critica personale e non c'è nessuno che abbia il tempo o la buona volontà di andarsi a leggere le carte di questa indagine, di approfondire, no, no. Basta leggere qualche articolo, quella, per cui la realtà diventa ciò che si è letto oppure ciò che si è sentito dire. E anche se tutto ciò che si è letto o sentito dire è magari ridicolo, fantasioso o impossibile addirittura, non imposta. Questo non imposta perché così deve essere, così deve essere. Ciò ritengo sia una cosa grave, amiche mie, perché è una sorta di consegna della propria intelligenza e della propria critica delle mani di coloro che ne sanno più di noi, ecco, quindi una sorta di azendevolezza. ma invece non è vero che ne sanno più di noi, però è importante quello che si dice, quello che si scrive. E guardate, non è che voglio dire che chi ascolta ciò è perché non ha cultura o è ingenuo, no, non è così. È la forza della ripetizione che fa paura, perché possiamo essere anche dei grandi professionisti in un certo campo, oppure eccellenti esperti di qualsiasi settore specifico. avere anche tre lauree, non è quello che voglio dire io, non imposta quello. Però la nostra vita, vedete, è organizzata in un certo modo, con certi ritmi, con certi interessi, per cui anche il grande professionista così intelligentissimo che accende la tv, vede qualcosa, legge di fretta i giornali, raccoglie asetticamente quello che legge, quello che gli viene detto, per cui rimane quella la notizia perché non rientra questa notizia nei propri interessi specifici della vita. E quindi ecco che si forma, si forma, insomma, questi modi di raccogliere le notizie, che effettivamente non sono filtrate dal nostro giudizio. Quindi, normalmente una volta, quando non c'era tutta questa immediaticità, non avveniva così. Oggi non si confrontano le fonti, non si acquisiscono informazioni, non si fanno processi logici e razionali, e quindi si va appresso a quello che si è sentito dire. L'ha detto la televisione, l'ha detto la televisione. Quindi, c'è una sorta di manipolazione, così, delle menti, attraverso una suggestione come mai, mai era avvenuto prima. Questo è, diciamo, in generale, il frutto un po' della globalizzazione, vedete, perché la globalizzazione cosa fa? Fornisce la stessa informazione nello stesso momento a milioni di persone. Ecco, e me ne sono accorto anche personalmente, quando su albato con amici, a volte siamo pure sei, sette, cinque di noi, a parlare e ci riferiamo le stesse notizie che allo stesso momento sono giunte sul nostro cellulare. Hai sentito dire che non è successo quello, hai sentito dire quella cosa lì, hai sentito che cosa è successo in quella città, hai sentito... E tutti sono accorrente di quello che è successo, perché questa notizia, nello stesso momento, è arrivata a tutti. Ora, se questa è una notizia vera, non vera, manipolata, ingigantita, comunque giunge senza filtri, così, a tutti, in modo uguale. E ciò sta avvenendo, perché ho fatto questo ampio ragionamento, perché ciò sta avvenendo anche per il caso di Liliana Resinovic, dove non è che ci si limita a mettere a confronto i principali elementi di un caso di per sé, un caso di per sé difficile, per fare in modo che ognuno poi si formi la propria convinzione. No! Si forma, si è formata una teoria basata su tanti elementi così susrettizi che sono visti da un certo punto di vista e quindi si forma una realtà di tipo virtuale, ecco, con aspetti anche deliranti, con fissazione su dei particolari che in sé non hanno importanza, ma che tendono a una soluzione del caso in un certo modo immaginato. Un modo virtuale. Quindi è lì che non va bene, perché ognuno di noi si dovrebbe formare la convinzione cercando di leggere gli atti, non prestando ascolto così alla gran cassa mediatica. Ora, dispiace pure che che poi si accettino come cosa buona e giusta, che nel momento in cui certe accuse, certe cose dette, non vengono avallate a livello ufficiale, ci siano accuse pesanti, anche nei confronti di organi dello Stato, come la Procura della Repubblica, che ha, diciamo, il torto, ecco, di non recepire, ecco, quanto detto, e quindi anche la colpa della Procura, che non fa alcun tipo di provvedimento, e che non aderisce magari a una ricostruzione dei fatti, secondo quanto indicato, e che magari non si dia corso immediatamente a un processo, magari senza nemmeno fare il processo. Allora trovo di interesse quello che a questo grado disse Gianluigi Nuzzi a un certo punto quando interrompendo la Marano disse ma allora scusate se pensate che in Procura ci siano delle persone che non fanno il loro dovere o magari perché sono incapaci che non capiscono niente allora chiedete la vocazione dell'inchiesta ecco al Procuratore Generale, eccetera, in modo di dire noi abbiamo questi elementi ma come mai questa Procura di Trieste è così inefficiente? Ecco però io vorrei dire a Nuzzi che ciò non basterebbe nemmeno perché quando si parla di avocazione la vocazione non dovrebbe essere poi a un altro potere dello Stato come la Procura Generale ma la vocazione che alcune persone vorrebbero forse sarebbe una vocazione dell'inchiesta a se stessi ecco nelle proprie mani in modo da poter procedere procedere speditamente all'affermazione all'imposizione di una realtà senza bisogno di alcun tipo di verifica di processo nemmeno quindi sono sono qualcosa queste ricostruzioni sono qualcosa anche di imbarazzante insomma di imbarazzante perché perché definiscono una realtà che non viene ipotizzata ecco non viene detta in forma ipotetica perché vedete ognuno può avere un'idea e esprimerla come forma di dubbio come forma di suggestione dice secondo me potrebbe essere questo potrebbe essere quella lo facciamo tutti no che ognuno magari fa delle ipotesi no quello che veramente imbarazza è che da una certa parte non sono più ipotesi ma sono delle statuizioni cioè delle certezze granitiche basate però su nulla ad esempio per dire Liliana non ne poteva più del marito Liliana aveva un amante Liliana voleva divorziare perché poi doveva sposare quest'amante Liliana voleva lasciare una casa al marito per non lasciarlo in braghe di tela e allora sicuramente il marito si è opposto a questa decisione hanno fatto una lite e allora il marito ha trovato il modo di sopprimerla di nascondere il corpo ma poi avendo la necessità di farlo ritrovare perché doveva discurre la pensione prendere i soldi eccetera e allora lo restituisce e lo restituisce così portando questo corpo al boschetto come lo fa non lo so o tramite il covaleto che se lo mette in spalla oppure approfittando di qualche membro della famiglia che lo posta lì al boschetto dove viene anche forse visto da quella signora la mattina con la pila in mano che illumina attesa ecco e poi e poi la realtà viene anche ricostruita di quella famosa mattina del 14 quando sicuramente lui la segue che si crea l'alibi falso magari ha un sistema elettronico di intercettazione della della moglie e quindi la ricostruzione che lei sale nella macchina prima di piazzare Gioberti e da lì viene presa a pugni a sberle per cui poi perde i sensi qua si dice tutto nei particolari perde i sensi cade svenuta sembra mostra allora lui che cosa fa finge di andare a lavorare i coltelli lì nel suo magazzino invece la posta da qualche parte al fresco dove resta magari per venti giorni prima di consegnare il corpo è ovviamente perfettamente integro e pulito quindi è questa ma che eronicamente diciamo in sintesi una realtà ecco che viene introdotta e viene accreditata con addirittura dei minimi particolari e ci si arrabbia quando di fronte a ciò una procura resta in silenzio e dice ma che cosa state dicendo e poi e poi si 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 fanno precisazioni sul cellulare sugli squilli sulla borsetta che sta in orizzontale in verticale sul cordino sul fatto che lui era preoccupato di questo marito non era preoccupato e che lui regalava le cose e che voleva dare ventimila euro e il fatto della fede è il fatto dei coltelli quindi tutto ciò questo bombardamento capirete bene che forma un immaginario collettivo per cui una volta bombardato di queste notizie Sebastiano non è più il marito nemmeno ma è il colpevole il colpevole non si sa di che cosa ma è il colpevole non si sa come non si sa quando non si sa dove ma è il colpevole per antonomasia ad ogni costo quindi è ciò che è questo che si forma nella cultura mediatica vedete è questo che è imbarazzante perché basterebbe basterebbe di propria sponte diciamo parlare vedere questo Sebastiano Vicintrin per dieci minuti per rendersi conto che egli non riuscirebbe ad organizzare nulla nulla perché è tutto avvolto nelle sue abitudini quotidiane non sa fare altro se non andare in bici se non fare una cenetta e bere qualche buon bicchiere di vino considerare questo personaggio come mente mente di qualcosa di complicato come questa storia complicata mi sembra veramente incredibile e anacronistico veramente e la ricostruzione vera di questa storia dovrebbe bastire quindi da altre ipotesi invece tutto ciò tutta questa realtà virtuale così ripetuta nasce sempre dal presupposto di questa storiella d'amore che invece ha fatto il modo a mio avviso di postare l'inchiesta in un binario morto in delle sabbie mobili senza alcuna via di uscita e gli stessi investigatori se di critica si vogliamo parlare non hanno tenuto conto anzi hanno aderito all'inizio a questa storia benché non dimostrata da niente non senza alcun tipo di riscontro senza alcuna testimonianza da parte di alcuno anche la procura ha aderito astrattamente a questa ipotesi per cui poi non trovando niente altro dice beh allora si sarà suicidato ed è strano poi che quando alcuni personaggi come lo Serpini che insulta accusa la procura il procuratore di inefficienze e altre cose ancora più gravi è strano che si faccia spallucce e si dica vabbè ma non fa niente tanto non ne teniamo conto di quello che dice ora adesso dopo tutto questo baradano diciamo mediatico che non troverà non trova riscontro non lo troverà ragionevolmente ecco che si getta l'ultima l'ultima scialuppa ecco l'ultima salvagente a questa inchiesta dicendo eh ma adesso aspettiamo la dottoressa Cattaneo che ci darà le risposte perché lei non si è suicidata quindi abbiamo le risposte finalmente le risposte non non rendendosi conto invece che le risposte ahimè difficilmente arriveranno ma anche se arriverà una risposta circa la datazione della morte o anche le cause alla fine della soluzione non servirà assolutamente a niente quindi bisognerebbe cambiare registro dubitare perché il dubbio ecco il dubbio non avere le certezze posta alla conoscenza posta alla conoscenza il dubbio percorso le altre strade poi alla fine magari ci si rende conto di avere anche sbagliato a pensare in un certo modo ma è meglio aver sbagliato con la propria testa che aver sbagliato perché ce lo dicono gli altri tutto qua il dubbio sta in questo in questo ambito se se insomma si va appresso a tutti questi particolari che tendono a formare una realtà virtuale alla fine questa realtà virtuale si scontra con una realtà oggettiva e il caso deve essere chiuso per suicidio anomalo quando volete ma purtroppo se non si ha il coraggio di intraprendere altre strade e come presupposto rimaniamo ancorata a una storia inventata è ovvio che non possiamo aspettarci niente niente di di vero niente di di conclusivo non ce lo possiamo aspettare semplicemente perché il presupposto da cui si parte è un presupposto sbagliato è un presupposto del tutto sbagliato questo è quanto la riflessione di oggi poi ve l'ho detto magari commenteremo insieme anche questa intervista che ha questo vicino di casa vedremo se ci sono degli spunti interessanti per il momento vi ringrazio vi saluto buona settimana e un abbraccio a tutti quanti voi